mamma mia come sto guardate che ho fatto le 4 stanotte in quella discoteca fa il pazzo vabbè comunque ragazzi ecco mi sono svegliato da poco è mezzogiorno, figuratevi no, volevo accontentare anche Gianni, Gianni il re dell'ottimismo ecco adesso ho messo la telecamera sul cavalletto in modo tale che non ti distrai con i movimenti di camera giustamente ok, perché io stavo lì sul letto il telefono in mano, adesso ce l'ho fisso qua c'era un signore che disse ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria e questo è il terzo principio della dinamica allora andando su youtube ho visto alcune persone voi sapete chi, vabbè, avete chiuso a parentesi chi ha la perspicacia di capire perché dai nuovi video Spectre Revolution sono un po' cambiato dentro qualche cosa di cambiato comunque, bando alle ciance qualche video su youtube hanno preso una bolla di vetro ci hanno messo una ventola ci hanno messo una piuma e facendo girare la ventola la piuma vibrava poi hanno creato il vuoto e la piuma non ha vibrato più per cui hanno dedotto che nello spazio questo terzo principio della dinamica cioè, tecnicamente non funziona cioè non si può avere una propulsione nello spazio perché lo spazio è vuoto allora facciamo chiarezza per un verso è vero è verissimo cioè, vi spiego bene se noi prendiamo un elicottero l'elicottero che cosa fa? a due pale prende l'aria la avvita la avvita la convoglia con un turbinio di quest'aria la butta sotto e l'elicottero si alza l'elicottero arriva fino a un certo punto dopodiché l'aria comincia a essere rarefatta non c'è più aria l'elicottero più di quello non può andare perché che cosa prende da per aria e butta per terra se non c'è più niente non c'è più aria l'elicottero arriva fino a un certo punto e poi più di quello non può non può volare stessa cosa gli aerei con l'elica stessa cosa le turbine cioè gli aerei a reazione l'aereo a reazione cioè una turbina che prende l'aria da davanti la butta dietro e quindi per terzo principio della dinamica per la spinta, eccetera allora anche questi mezzi non possono non possono volare senza aria perché lavorano con l'aria e il terzo principio della dinamica dice che due due oggetti due corpi devono interagire per avere questo principio vi spiego meglio se noi prendiamo due magneti su una base no? due magneti sospesi magneticamente su una base ok? in mezzo ci mettiamo un filo e questi due magneti si respingono ecco sto al centro di più si respingono ma noi ci mettiamo un filo qui abbiamo lo zero e qua abbiamo il metro che conta no? la distanza nel momento in cui lo tagliamo il filo i due magneti di pari massa pari potenza fanno lo stesso tragitto per poi fermarsi a un certo a una certa distanza se noi invece ripetiamo l'esperimento mettendo aumentando il doppio della massa soltanto da una parte otteniamo che gli oggetti quando tagliamo il filo gli oggetti l'oggetto con meno massa fa più spazio l'oggetto con più massa ne fa di meno perché tutta la resistenza che oppone questo oggetto ha fatto sì che la forza si trasferisce si trasferisse nell'altro oggetto non so se sono stato chiaro è come dare un calcio a un sasso ok? di un chilo senti sto calcio e sto sasso vola ma se il sasso pesa cento chili il sasso non si muove da là però sei tu che ti sfracagni il piede perché tutta la forza che tu hai impresso sul sasso hai mandato sul sasso il sasso essendo fermo per terra e non si muove ti ha ritrasmesso tutta la forza che tu hai dato con il calcio per cui il terzo principio della dinamica dice che ci devono stare due o anche più corpi magari diventa più complicato però minimo due corpi che interagiscono e in assenza di aria chiaramente con l'elicottero sulla luna non ci posso andare con l'aereo sulla luna non ci posso andare perché poi finisce l'aria e io che cosa mi butto dietro le spalle per poter andare avanti però però se noi andiamo a analizzare bene la situazione il razzo non è che funziona proprio per avvitamento eolico il razzo funziona proprio per il terzo principio della dinamica in quanto c'ha un liquido che poi quando esce diventa gassoso si espande esce fuori questo gas a pressione che diventa liquido perché così ce ne mettiamo di più e sotto al razzo c'è questo buco comandato dai servocomandi che apre questo liquido esce fuori questo gas esce fuori e spinge il razzo quando questo razzo si trova in assenza di aria che cosa succede? che il razzo gode del terzo principio della dinamica rispetto al gas che esce quindi se non c'è l'aria noi l'aria ce la portiamo appresso dentro il serbatoio del razzo quindi teoricamente il razzo può andare dove non c'è l'aria sono gli aerei che non ci possono andare sono gli elicotteri che non ci possono andare per esempio io stavo lavorando a un propulsore giroscopico che cos'è? sono una serie di giroscopi montati su un piatto rotante questi giroscopi hanno un moto il movimento angolare nel girare il piatto il giroscopio tende a salire ecco quel tipo di propulsione è propulsione giroscopica neanche necessita di aria perché si basa su un altro principio che è comunque il movimento angolare del giroscopio se voi prendete un flex lo accendete fate questo lavoro il flex se girate da una parte il flex vi spinge verso il basso se girate dall'altra il flex vi alza verso l'alto perché? perché il giroscopio non si lascia influenzare si incavola quando voi lo spostate nello spazio in modo anomalo come non dice lui quindi oppone una resistenza esce fuori una forza vettoriale che vi spinge verso l'alto verso il basso vi avvita in base alla macchina che ha questo giroscopio e anche il giroscopio questo motore giroscopico ha la differenza che praticamente non si avvita all'aria ma i razzi l'aria se la portano ecco però la questione che voglio lasciare in sospesa perché magari Angelo qualcuno mi può aiutare a capire forse io ci sono arrivato tecnicamente ma dobbiamo capire un po' tutti no? sceglier allora se le due masse più aumento la massa di uno e più l'altra schizza via mentre la prima che ha tanta massa rimane lì il razzo che ha una grossa massa ma una il propellente l'aria che esce fuori il gas che esce fuori da questo razzo ha una massa piccolissima no? sì è vero è tanto però rispetto al razzo rispetto al razzo quanta massa può avere quindi questa spinta di questo razzo nello spazio sarà molto 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 inferiore a quello che può essere sulla terra ok? quindi è anche un discorso da ragionarci un po' su perché questo è vero pure che comunque il razzo non ha un coefficiente di attrito come ha sulla terra perché è vero che nella terra sulla terra c'è quest'aria che però quest'aria oltre a farlo diciamo così a fare una sorta di tappo per spingerlo ha anche il problema in qualche modo della densità di quest'aria che lo frena nello spazio questa densità non c'è mancano proprio il vuoto non c'è niente e quindi è così però ecco attenzione anche a questi esempi no? della come si dice della piuma che si muove è vera è vero quell'esempio è vero ma non è attinente al fatto che nello spazio non ci si potrebbe andare perché voi ragazzi ve lo sapete io ho delle idee no? però quando vedo un video che comunque dice metà della cosa cioè dice esistono le verità le bugie e le mezze verità le mezze verità le mezze verità non ci fanno capire niente sono peggio sono peggio perché è una bugia uno dice vabbè proviamo vediamo no invece lì la verità c'è in effetti l'elicottero nello spazio non ci va l'aereo nello spazio non ci va ma il razzo funziona perché si la porta lui l'aria da buttare nello spazio nel vuoto lui c'è l'aria dentro il serbatoio c'è la lui l'aria quindi il terzo principio della dinamica è applicabilissimo se tu ti porti l'aria nello spazio te la porti tu l'aria non ci sta sì ma me la porto io cioè nel serbatoio per cui io quando sono lo spazio butto fuori l'aria e trovo i due corpi l'aria e il razzo che ai quali c'è appunto questo terzo principio della dinamica che appare così magicamente come incanto ecco questo è il terzo principio della dinamica un po' come il sasso che gli da il calcio eccetera quello ti fa capire la situazione oppure anche quando stai nell'acqua non so che se qualcuno è stato mai in profondità se ci sono due subacquei che si spingono automaticamente si allargano però non è il caso perché nell'acqua con le pinne tu sposti il liquido quindi sempre due sono il sommozzatore e il liquido in cui è immerso nello spazio non c'è il liquido quindi non ti puoi non ti puoi spostare ma ipoteticamente se ti porti una bottiglia di acqua ok se ti porti una bottiglia di acqua e levi il tappo e nello spazio spingi quest'acqua da quest'altra parte quest'acqua ti ti fa entrare nel terzo principio della dinamica praticamente ti spinge spingendo quest'acqua con forza con la pressione io vengo buttato indietro cioè vengo praticamente azione reazione ecco ragazzi io ho cercato voi lo sapete io non uso formulette perché se mi metto a spiegare formulette diventa il canale di spectro come tutti gli altri video che trovate su internet alfa beta gamma nessuno non ci capisce niente però ecco io cerco di essere molto realista capiti per terra cioè questo terzo principio della dinamica va bene ecco qua svelato il grande arcano ricapitolo perché c'ho qualche minutino e voglio sottolineare bene questo concetto ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria ed è come una bilancia se tu qua c'hai due oggetti che si respingono ma uno ha più massa automaticamente quello schizza di più perché questo è più massoso d'accordo ecco vi faccio un ultimo esempio questa me la butto lì ipoteticamente se io avessi un fucile no ok sparo il corpo e cerri in culo terzo principio della dinamica paradossalmente se io mentre è impossibile mentre sparo questo colpo prendessi il fucile e lo tirassi velocemente alla stessa velocità del colpo il colpo dovrebbe rimanere qui questo è un quesito vediamo un po' perché voi lo sapete io devo cercare di far chiacchierare sulla chat ecco vi lascio con questo quesito se io ho un fucile sparo un colpo e anziché di tenerlo fermo e far partire il colpo se io sparo col fucile prendo il fucile e lo allontano alla stessa velocità del colpo il colpo rimane lì o no mamma mia ciao ragazzi ah terzo principio della dinamica azione reazione io metto il dito sul touch screen e che succede barabam un po' un po'